Fai il video, Mike. Adesso, va. Sto mettendo il video? Eh, sì. Sto mettendo il video, e foto. Grazie. Che c'è l'esame finale. Abbiamo fatto ancora un gioco. Grazie. Grazie. Grazie mille. See you. Oh! Tu sei un bambino? Tu sei un bambino? Tu sei un bambino. Esa. Vero? Suntosmeringo. 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 Grazie a Dios. Grazie a tutti